Musica Fondamentale per il lab Per i tasti, per imparare a giocare Mini, esatto Parla per te, parla per voi Sono riuscito finalmente a fare un po' di gol Anche al tiro di precisione No, un po' diciamo che ti migliora Sì, appunto Parlate per voi Tu no? No, assolutamente no Io gioco uguale A quando in sé ho a FIFA Fino a FIFA 98 Ora gioco sempre uguale In Manchester City È la Lazio? No, no, è l'Albino Leff Sono laziali questi Sì? Sì, sì Ma si era laziale davvero? Sì, sì Avevano tutte e tre magliette della Lazio Oh, anche se a te Vai Vai Eh, lo sì Non ci ha nascito, solo sono in due Uno, due Questa è un'importa Poi La Melle Filtrante Oh Alla chi? Ah, eh Buono, buono Occhio al pallone in mezzo Eeeh Traiettore Vai vai, tira tira forte No, peccato Vai, la s'altra figlia a lui Vai, vai Ci sono Vai, vai, buono No, peccato No, peccato Prendi, vantare Sempre lui Sempre lui Pirlini è sempre presente Sempre al top Bella Buono No, ma che cazzo Che roba è? No Vincanto Vieni, vieni Ma chi? Ah, ma no Bravo che sei io No, vabbè Eri stato te Sei te l'artefice Sto farti una sciabattata Ma attenzione A polcino Lui è uguale A un polcino Lui è uguale Fate abbastanza Simili Ci sono No, scusalo Da lui Ah, è un acero Crystal might Ecco Ecco Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Fuorigioco Davvero è pallato No, sono fuori Ciò io Ma sono rientrato Piccolo Piccolo Si lascia scappare Oh, buono qui è Vai, bravo Eccolo, nehi Non perdona mai Telecamera, telecamera Eccola, eccola Eccola, eccola Dove vai, dove vai No, no Devi venire Te ne apre Te ne apre No Dai, dai Io ce l'ho venuto Eh, però Non ce neanche io No, no, in questo senso Vabbè Che è successo? Intendevo prima di andarci là Per vedere la pagina Eh? Ah, prese lì Ah, eccolo No, rimasto memoria Peccato Porca miseria Eh, ma è rimasto memoria a te Che lo voleva affrontare Poi gli ha tolto la palla così E' rimasto in memoria a tutto E Quella cieca è Aspro Vai Vai Oddio No, eh Ah, ahk, 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 ahk Ah, ahk Si, si, si Si, si, si Si, si Purtroppo si Due, no No, no lancia lungo lungo bravo prezzo no 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 2002 giallo hard è così grande 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 meglio di tutti ragazzi oh non c'era troppo ora la munisce oddio ma trai no tanta roba comunque hai scelto un cooper è caldo la partiva era la fine eh si premia la corsa io mi sa che non posso segare più no no altrimenti so cazzi prova nooo ah te la ne andiamo in culo eh sono stupidi e scarsicur si queste si vai così vai con la promozione ma vai occhio al tocco verticale dei compagni bella porca miseria non c'è arriva non c'è arriva non c'è arriva porca miseria non c'è non c'è è arrivato dopo tre ore mamma munita esatto erano nel 20 erano nel tipo dei 25 erano nel 25 minuti esatto vai via via e seppure cazzate mia la mia data fa ancora l'abito visto per la scena il gioco palpa no trova palata palata ciò batti ciabattaro pace è cura ma voi che visuale avete quella normale come io ho detto quale se lo meno ho capito te iori te iori te iori te iori te iori chialini mamma mia è un mostro è un mostro sui grande quale c'hai di quale c'hai di visuale diretti prima stampa riuscendo su eppure elettorale scuola allora come se lo dà a cazzoli si è davvero si è davvero no no di quello che è 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 pesi no se il cartello secco alzare che ad esserci alzare la carta 1 0 1 0 dai per me non fare di più ma c'è la formazione sbagliata ecco il che è un coso eh si sono un cc è equilibrato vedi che è messo si eh non è più come la partenza no però io ti ho visto ci vedi poi sono dietro parecchio tutto pronto l'arbitro dà inizio alla seconda un'altra parte un'altra crisi poi io 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 ma lo scasso l'ho detto non ho fatto una guardia sergio si si con quelle linee ciaffoni non sono male dietro no, per nulla no, troppo me sono andato no, peccato guarda cose brutte no, posso segare ma davvero davvero in ruzzo no, ma non pressa nessuno bravo perfetto no che fanno? che fanno che ora che ora non posso segare è a vita purtroppo al botto al botto no no occhio alla verticalizzazione può colpire da lì vieni ma è il mamma merdoso oddio no dai palle grande grande oh 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 ma è il mamma dell'incartare ti confondono si confondono tutto no dai ma è il mamma ragazzi quando si bloccano diventano meccanici si si eh si incartano bella bene 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 poi oi hai fatto si incartano ragazzi con delle osse grandi ellini l'alegra di tini porti con l'invento l'azzo a lui no preso che ero se non c'è riferimento questa cosa si fa se si fa fare passaggi il mio eh 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 lo sai vai forse quelle cose bravo no a mezza strada a mezza strada davvero un po' si incartano madonna davvero no pallae brutta ma che palle meno male se c'è ci sono ci sono ci sono eh ho fatto passare ci ho provato lei va a pressa come un animale ma e poi dopo il mio mino fa schifo in difesa c'era 40 oh 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 no dai ma che cazzo ma poi fanno un'azione buona ai gol davvero no 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 ma che coglioni si magnifico si magnifico ha davvero lasciato scappo al portiere con questa potta dalla media distanza palladini vai vai quella porca miseria non torna mai non torna mai lontano la vuota il difensore conclusioni intercettuali che fa chi è dai è impossibile fai a fa' un passaggio di fila ma davvero eh tu passaggi insieme li fanno trovo trovo no se no se no all'occhio pressi un messo e' una tattica per recuperare palla ma si eh guatalia che palle mamma mia dai no ma come si fa oppure si va ma ecco anticipata bomba o І no, è possibile su due arePE40 bd bella no, 1,3 l'00 tweedef posto ocorso prova cazzo lodo viviamo giro vai vai a ci siamo ora voi e me ne ha un esercizio da presto di prendere il pallone ok vai vai non ci posso vedere per le fosse maestrosi di ma donna ragazzo ci posso vedere porca miseria c'è battato bravo vai cazzo no no vai 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 no 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 brutto brutto oh sta per i cavalli quello attento ma che cazzo mamma mia godo vai raga mi sa che abbiamo l'ultima azione da potete fare dai ma che schifo ma vaffa ma almeno l'ultima azione ce la potremmo far fare dai una uno no cazzoni ma poi loro un giro eh no davvero seriamente davvero guarda di mettere i modulo un'altra la foppo guarda di mettere i la 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 la